Chiesa della Purificazione di Beata Vergine Maria La pianta dell'edificio è a navata unica, con il presbiterio e l'abside dietro l'altare maggiore. Ai lati si trovano due cappelle dedicata a Sant'Antonio e alla Vergine del Rosario. L'abside collocato dietro la zona dell'altare maggiore è abbellito da un'icona raffigurante la presentazione di Gesù al Tempio. Il soffitto e le pareti laterali della navata sono decorate finemente con scene allegoriche floreali di cui purtroppo non si è riusciti a risalire sul nominativo dell'autore. Tra gli arredi è ancora discretamente conservata la loggia dei musici addossata alla parete su cui si trova il portale d'ingresso, decorata con motivi musicali. Attualmente questa chiesetta sconsacrata, donata dalla Curia al Comune, è destinata ad eventi e manifestazioni. Vi è ancora presente la cartellonistica originaria del Centro di Documentazione delle Morene del Chiusella, progetto realizzato nel 2002 con fondi europei. Grazie a tutti! Grazie a tutti!